Oggi voglio parlarti della migliore tecnica che ho utilizzato nella mia esperienza da studente universitario. Ne abbiamo parlato tante volte di qual è la migliore tecnica di studio. Oggi voglio parlarti di qual è la mia esperienza, quindi probabilmente potresti trovarti d'accordo con me, possibilmente per te la tecnica migliore è un'altra. Condivido questo mio pensiero, questa parte della mia esperienza, perché magari potrebbe essere utile o comunque un punto per ragionare insieme. Vado a fare un piccolissimo disclaimer, se segui il mio canale sai che una delle tecniche che preferisco o comunque che a mio avviso risulta più efficace è l'active recall, quindi non parleremo di questa tecnica perché io l'ho scoperta un po' dopo. Un'altra che invece è stata essenziale per me è quella che poi ti voglio proporre nel video di oggi. In ogni caso ti ricordo che tutto quello di cui parliamo all'interno di questo canale è spiegato in modo molto più approfondito e dettagliato all'interno del metodo di QE, è un metodo di studio di cui ti lascio il link in descrizione. Puoi andare a dare un'occhiata lì se ti può interessare. In ogni caso vediamo la sigla e vediamo qual è stata nella mia esperienza la migliore tecnica di studio. Prima di svelarti tra virgolette qual è, voglio dirti perché per me è stata la migliore. Perché mi serviva una tecnica che, dato che non avevo molto tempo, mi permettesse con giusta quantità di sforzo di avere degli ottimi risultati. Quindi andando a considerare costi e benefici, la tecnica che mi ha aiutato tantissimo è stato il palazzo della memoria. E ti voglio spiegare anche qual è il backstage, quello che mi ha portato poi a scegliere questa tecnica come tecnica principale nel video di oggi. Avevo la necessità di ricordare una lista di informazioni. Ho provato altri metodi, magari tecniche che possono essere sì considerate le tecniche di memoria, per esempio l'acronimo. Quindi sono partito dal mettere in ordine queste parole in modo tale che l'iniziale di ciascuna di queste potesse creare una parola, una breve frase da ricordare e così via. Se sai come funziona l'acronimo sai di cosa sto parlando. Comunque una strategia che in molti casi può essere utile. Ma a me non serviva ricordare quella lista esattamente per com'era e in ogni caso le iniziali non mi permettevano di creare un buon acronimo. Quindi che cosa ho fatto? Ho cercato, ho sperimentato con tante tecniche finché sono arrivato a quelle che all'epoca chiamavo tecnica dei loci, comunque oggi si chiama palazzo della memoria ma è praticamente la stessa cosa. L'ho provata e mi sono trovato benissimo. Se non la conosci, mi sembra strano ma in ogni caso non è assolutamente un problema, anzi è un ottimo spunto e ne parliamo adesso. È una strategia che ti permette di prendere l'informazione, una qualunque informazione, un concetto, scritto, come preferisci, quello che devi memorizzare. Lo trasformi in un'immagine all'interno della tua mente e vai a collocare questa immagine in un luogo, sempre immaginandolo, che per te è familiare. Ripeti questo processo tra concetto, immagine nella tua mente e lo posizioni sempre in quel luogo fino a riempire questo luogo che è nella mente, potrebbe essere per esempio la stanza in cui ti trovi adesso, questo meccanismo ti permette di ricordare una marea di informazioni. C'è che appunto parla di palazzo della memoria proprio perché si va a creare una sorta di stanza con un'altra stanza, con un'altra stanza, quindi crei davvero un palazzo. Ma in generale il principio importante è che il concetto viene trasformato in qualcosa che per la nostra mente è facile da ricordare, le immagini, e queste poi vengono organizzate in modo tale che non sono messa alla reinfusa, ma sai esattamente non solo come ricordare la singola immagine, non solo come ricordare la lista delle informazioni perché sono ben organizzate, ma addirittura, questo è stato un esercizio che ho fatto perché mi è piaciuto all'epoca, puoi anche invertire il senso, puoi quindi non solo ripetere la lista dalla prima all'ultimo elemento, ma al contrario, assaltare, ricordi esattamente ogni informazione in che posizione è. Sostanzialmente il palazzo delle memorie per me è stata una vera rivoluzione nello studio. Ovviamente voglio dirti che non è una tecnica per la quale se la utilizzi improvvisamente non devi fare nient'altro. Questo è un modo di memorizzare le informazioni, poi ovviamente, come nel mio caso, devo ricordare quella lista di concetti, ma mi serve anche operazionalizzarla, cioè renderla anche pratica all'interno di quello che devo fare per spiegare le informazioni. Quindi comunque la lettura è essenziale, devi andare a creare degli schemi, applicare le tecniche di memoria per ottimizzare i tempi che hai a disposizione e quindi l'insieme di queste tecniche poi ti permettono di studiare in modo efficace. Tutto questo, infatti, è spiegato all'interno del metodo di QE. Quindi questa era la mia esperienza con la migliore tecnica di studio. Perché migliore? Perché mi ha permesso in poco tempo di ottenere degli ottimi risultati. Io l'ho applicata ad una lista, puoi applicarla a qualunque cosa vuoi. Se non sai come si usa, nel mio canale trovi tantissimi video sia più teorici che pratici per capire come utilizzarla nel miglior modo possibile. In ogni caso, questa era la mia esperienza con questa tecnica di studio. Fammi sapere nella sezione dei commenti qual è la migliore tecnica di studio che tu hai utilizzato e applicato. O magari se stai cercando una tecnica in particolare e vorresti sapere qual è la migliore soluzione per la tua circostanza, per la situazione in cui ti trovi, fammi sapere e cercherò di aiutarti nel miglior modo possibile. In ogni caso, ti ringrazio per il tuo tempo e per la tua attenzione e ti aspetto nel video che uscirà domani.